Una storia che tocca a tutti noi, non solo chi abita nel quartiere Tamburi di Taranto, tocca a tutti noi perché sono decenni che seguiamo la vicenda dell'Ilva, la vicenda dei veleni dell'Ilva che raccontiamo come giornalisti, anche grazie al lavoro, devo dire, instancabile di chi come Pislink, come Alessandro Marescotti ha raccontato, ha documentato i problemi, l'allarme sanitario che veniva da questi stabilimenti e che viene ancora da questi stabilimenti, ebbene la sentenza che ha condannato il Due Riva a più di vent'anni di carcere, che ha trascinato anche Nichi Vendola in una condanna che sicuramente non ha precedenti, che sicuramente Vendola ha contestato, insomma questa è la dimostrazione che questo, che è uno degli scandali, se volete, uno dei tanti scandali, ma uno dei più grandi di questo paese, della politica industriale di questo paese, non era certamente campato in aria. Non era campato in aria, ma ancora oggi è tutt'altro che risolto nonostante la sentenza. Pensate che le rilevazioni fatte da Pislink e divulgate da questa associazione, che segue ormai da decenni la situazione di Taranto, dimostrano che ancora lo scorso anno le percentuali di benzina nell'area di Taranto erano sopra la soglia. Nonostante il Covid, nonostante ci fossero attività industriali molto più basse del solito, ebbene, l'area di Taranto continuava a essere piena di veleni. Certamente questa è una situazione che la sentenza straordinaria, se volete sicuramente storica, del Tribunale ha in qualche modo fissato, ma non ha certo risolto. Sull'Ilva bisogna che la politica dia delle risposte, bisogna che in qualche modo si fermi questa spirale che continua ad annerire i taranzali di Taranto, i polmoni di chi vive a Taranto, di chi lavora all'Ilva, ma anche di chi all'Ilva non lavora e avrebbe diritto, come tutti i lavoratori, tutti i cittadini italiani, a respirare aria pulita e non aria di morte.